Sono Gabri Costa, ascoltatemi bene attentamente, in questo Kawabanga Collection, visto che stiamo facendo ancora Tartles in Time in versione Arcade, finalmente siamo nella base spaziale, perché ora è il momento della vendetta. I soldati ninja e i guerrieri di pietra ci danno ancora filo da torcere e poi stanno facendo un ultimo tentativo per fermarci, ma noi li eliminiamo e si continua ad andare avanti. Vi faccio ricordare che questo è il penultimo livello che facciamo. Non le sopporto le armi elettriche. Ricordatevi che alcuni personaggi delle tartarughe ninja li so a memoria. Stiamo attenti, stiamo attenti anche a camminare su quel pavimento perché ci sono le parti di ghiaccio, non riusciremo mai a evitare le trappole di ghiaccio. Stiamo attenti anche alle grosse palle che rotolano. Io voglio arrivare in fondo alla base spaziale. Ecco, ci siamo. Siamo arrivati in fondo alla base spaziale, ma dobbiamo scoprire il boss da affrontare. eccolo di nuovo Krang. Questa volta Krang è in seconda versione, ma bisogna sconfiggerlo e bisogna batterlo. Vediamo chi avrà la sua rivincita e vediamo chi riuscirà a conquistare la sua vendetta. stiamo attenti anche alle bolle quando spara e quando sguinzaglia robot. Avete visto sullo schermo ci sta guardando Shredder. è sempre su questo veicolo volante Krang. Ecco, vediamo se riusciremo a vincere. E poi ho sentito dire che attraverso quel barco arriveremo a casa. Torneremo nel presente. E vai, eliminato di nuovo Krang. Vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Nel prossimo video faremo l'ultimo livello con la battaglia finale. Non mancate. No. gue.